Stasera che fai allora? Eh niente, i bambini sono dal padre. Appunto, serata ideale per una cazzata? No, no, me ne sto buona, buona, buona a casa, tranquilla. Bene. Tranquilla. E domattina per premio, cappuccino insieme. Ok? Mamma mia, c'è un pochino! No! Il linguaggio del corpo è pieno di equivoci, Maria. Tra gli umani non funziona. Tra le foche! Mi dirai? Tra le foche funziona perfettamente. Quando torni mi manchi. Sabato, però al concerto. Bongiorno insieme, prima? Certo, no, non so. I don't want you to be no slave. I don't want you to walk our day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you. Mmm.